Leggere è un modo per evadere dalla realtà, per farsi una cultura, conoscere cose nuove e anche lasciare in presa delle cose che ci sono state durante gli anni, quindi penso che abbia una notevole importanza. Direi che se sfruttata bene potrà essere molto utile comunque anche per la letteratura, nonostante siano due campi anche abbastanza differenti, però penso che sia davvero una cosa utile perché così la letteratura potrà essere conosciuta con tutti i mezzi che abbiamo come gli smartphone, i computer e anche accessibile comunque a tutte le persone che vorranno comunque conoscere, però penso che debba essere più, non so, più, non mi viene la parola, più condivisa, cioè che la debbano conoscere molte più persone e l'internet è un mezzo comunque per arrivare a questo fine.